Saluti a tutti e benvenuti al nostro canale. Eccoci qui con le nuove anticipazioni di Terra Amara. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno le prossime puntate che ci terranno compagnia nelle prossime settimane. Come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale e a lasciare un bel mi piace. Dato che la polizia non ha fornito grandi novità, Demir ha deciso di indagare personalmente sulla morte di sua madre, ma ovviamente a suo modo. Organizza una conferenza stampa in cui, insieme a Zuleyya, annuncia ai giornalisti che pagherà un milione di lire a chi fornirà informazioni sulla morte di sua madre. Quindi, se qualcuno ha visto o sentito qualcosa il giorno in cui Ankara è stata uccisa, verrà generosamente ricompensato. Alla conferenza è presente anche Ilmaz, che nota però un dettaglio che lo disgusta profondamente. Demir tiene la mano di Zuleyya. La sera, Ilmaz e Zuleyya si incontrano di nuovo nella vecchia casa di Sermin e scoppia una lite furiosa. Ilmaz inizia a fare strane ipotesi e accusa Zuleyya di essersi riavvicinata a Demir, vivendo con lui come se fossero marito e moglie. La ragazza ovviamente si arrabbia molto e Mujeygan, che ascolta dalla porta, sente Ilmaz dire a Zuleyya che per lei sarebbe stato disposto persino ad abbandonare il piccolo Karem. Mujeygan se ne va arrabbiata e Zuleyya se ne va furiosa per l'accusa di Ilmaz. Il giorno seguente, Ghaffur su richiesta di Demir, si reca nella camera da letto di Ankar per cercare il suo certificato di morte. Mentre cerca, un cassetto si apre e spunta un fascicolo rosa. Ghaffur crede che sia stata l'anima di Ankar a far aprire quel cassetto. Prende il fascicolo e scopre che c'è scritto il nome di Base e che contiene informazioni importanti su di lei. Si rende conto che Ankar stava indagando sulla zia di Mujeygan e deduce che tra le due donne ci fosse una tensione. Ghaffur, affannato, torna a casa e chiama Saniyei perché vuole mostrarle tutto. Ma a raggiungerlo è Base, che aveva deciso di andare nella vecchia casa di Sermin. Base vede Ghaffur con il fascicolo in mano e capisce cosa sta succedendo. I due iniziano a discutere e Ghaffur accusa Base di aver ucciso Ankar. Base giura che non è stata lei ma minaccia di rivelare prove incriminanti su Ghaffur e l'omicidio di Atip, se lui osasse accusarla ulteriormente. La situazione si fa sempre più intricata e il destino dei personaggi sembra essere sempre più intrecciato. Così, ogni potere svanisce e Base si porta via anche l'opuscolo, l'evidente prova che ella stessa sia stata l'autrice dell'omicidio della signora. Ghaffur, al cospetto di questo fatto, appare visibilmente sconvolto e comprende che Sermin ha confessato tutto a Base, rivelando che è stato lui a uccidere Atip. Nel frattempo, presso la farmacia del paese, si svolge un incontro tra Mugeigan e Zuleia. La dottoressa, dialogando con il farmacista, fa intuire la sua gravidanza e in modo diretto annuncia a Zuleia che lei e Ilmaz avranno un secondo figlio. Ciò significa che Kerem avrà una nuova sorellina o un fratellino. Zuleia è colta da stupore e le lacrime le rigano il volto mentre fugge via. Una volta giunta a casa, Sevda cerca di confortarla, ma non riesce a entrare in contatto con lei immediatamente. Tuttavia, riesce in seguito a raggiungerla e abbracciarla. La ragazza si rifugia nella sua stanza e cerca di contattare Ilmaz in azienda. Sfortunatamente, Ilmaz non è disponibile e al telefono risponde Chetting, che capisce immediatamente che qualcosa è accaduto. Nel frattempo, Base organizza una conferenza stampa, durante la quale davanti a un gruppo di giornalisti insinua di essere stata attaccata e che qualcuno ha sparato a lei per ordine di Zuleia. Sfruttando le sue doti, si dichiara innocente e afferma che non ha nulla a che fare né con l'omicidio di Ankar, né con l'attentato a Zuleia, verificatosi quando la ragazza era in ospedale. La donna rivolge parole dure alla moglie di Demir, scatenando l'indignazione di Fekeli e Sermin, nonché degli altri presenti alla conferenza. Alla conclusione della sua dichiarazione, Sermin si avvicina a Base e le rivela di aver capito tutto, è stata Base stessa a organizzare l'aggressione, pagando qualcuno per metterla in atto. L'ascolto di queste parole scatena una furiosa reazione nella zia di Mujaygan, che minaccia pesantemente Sermin. Sermin, preoccupata, corre da Demir e gli riferisce gli eventi legati a Zuleia. Ella pone gravi accuse e mette in guardia su Base, descrivendola come una donna terribile. Demir, esausto, esprime gratitudine a Sermin, e afferma che prima o poi la verità sulla morte di sua madre verrà a Galla. Successivamente, chiede alla cugina di accogliere Sevda come parte della famiglia, sottolineando che anche Ankar aveva accettato la sua presenza in un certo senso. Sermin gli assicura che lo farà. Nel crepuscolo, Ilmaz chiede di incontrare nuovamente Zuleia in segreto. Tuttavia, questo incontro tra i due non porta a nulla di positivo. Zuleia, infatti, è furiosa e rivela a Ilmaz di aver scoperto di aspettare un secondo figlio da Mujaygan, dimostrando che lui non ha mai smesso di vivere con la donna che lei afferma di odiare. Di fronte a questa rivelazione, Ilmaz rimane senza parole, poiché non sapeva della gravidanza di Mujaygan. Tuttavia, giura di non avere avuto rapporti con lei da molto tempo, rendendo impossibile che sia incinta di suo figlio. Ilmaz trova questa situazione molto strana, ma Zuleia sembra non voler ascoltare le sue parole. La rabbia che prova è così intensa da offuscare la sua capacità di comprendere la realtà dei fatti. Zuleia augura a Ilmaz una buona vita con sua moglie e i loro due figli e, distrutta, si allontana e torna a casa. Per Ilmaz, ora, si apre un nuovo e complicato capitolo. Se queste anticipazioni vi hanno interessato, vi invitiamo a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle novità di Terramara. Grazie e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.